Se vede le grandi squadre in Europa, anche le grandi squadre negli Stati Uniti, il centro sportivo fa parte di quello. Allora per me è una base che cominciamo, adesso il centro sportivo, dopo sarà il stadio e piano piano andiamo nella direzione che vogliamo andare. A proposito proprio dello stadio, il presidente ha avuto anche dei colloqui con il sindaco Merola, come stanno procedendo le cose? Le cose stanno andando benissimo, c'è una procedura che dobbiamo fare, la stiamo facendo e io non vedo problemi nel futuro a livello del stadio, però tutto prende il tempo che deve prendere, però ti dico la verità non ho preoccupazione a quello livello lì. A proposito invece del progetto tecnico, quindi parlando anche proprio del mister, del rinnovo di Donadoni, di quello che potrebbe essere e potrà essere il mercato estivo, come ha già alcune idee, ne sta già parlando? Prima di tutto dovete sapere che abbiamo un gruppo tecnico qui che ci do tanto fiducia. Non solo all'allenatore, il suo staff, anche il direttore sportivo, anche a Fenucci, stiamo lavorando insieme per assicurare, per mettere la base in piedi, per far grandire il progetto di Bologna. Sappiamo che Donadoni ha un contratto di un altro anno, però stiamo parlando per il futuro. Però non è solo che si parla quando vengo io, si parla sempre. Io sono sempre in contatto con sia Bigon o sia Claudio. Per il fatto di Donadoni ho tutte le fiducia in mondo, il suo staff e anche in lui. Quello prenderà il tempo che prenderà, però non vedo problemi con Donadoni. A proposito invece di Blair in Zemaili, perché anche i tifosi un po' se lo chiedono, insomma, quando andrà a Montreal, se ha già parlato anche lei con il giocatore. Il progetto di Blair in, quando è venuto qui a Bologna, è venuto con l'idea che veniva a Montreal faceva un anno qui. È vero che c'è l'opportunità di portarlo prima. Allora noi stiamo vedendo anche con Blair in, se lo portiamo prima, perderà tre partite qui a Bologna, che sarebbe Pescara-Milan e l'ultima partita contro Juve. Se lo portiamo dopo, perderà otto partite con Montreal. Allora dobbiamo vedere se Bologna si salva, se l'obiettivo che abbiamo fatto all'inizio della stagione siamo arrivati e lo possiamo portare via prima, per non perdere l'otto partita a Montreal, lo facciamo. Allora per me, come ho detto, voglio vedere, non voglio far male a Bologna per portarlo prima, però non voglio fare male neanche a Montreal per aspettare fino a luglio. È ovvio, come ho sempre detto, il progetto nostro è sempre il progetto di migliorarsi ogni anno. e come ho detto, fino ad adesso è quello che abbiamo fatto. Non farò mai male a Bologna per far bene a Montreal o viceversa. È ovvio, se portiamo via un Blair in, troveremo un altro giocatore, sia un giocatore giovane che possiamo far crescere o un giocatore già abbastanza stabilito. È ovvio che per me non sono qui per far Bologna più peggio di cosa abbiamo fatto. Vogliamo sempre crescere e quello fa parte del piano. È ovvio che, se lo posso dire, solo alla fine, perché come ho sempre detto, c'erano tre obiettivi molto importanti che volevamo fare. Fino ad adesso siamo in linea per arrivare a quell'obiettivo lì. È ovvio che abbiamo perso dei punti che potevamo fare, però abbiamo fatto delle punte che forse non dovevamo avere. Allora, credo che a livello della squadra, come è, il voto ce lo do alla fine stagione. L'ho detto sempre, abbiamo un piano di cinque anni e per me quello non cambia. Anche quando abbiamo perso le partite che abbiamo perso, abbiamo avuto un periodo che è stato molto difficile. Ho sempre detto, ragazzi, dobbiamo essere, l'ho detto dall'inizio, dall'inizio quando sono arrivato a Bologna, ho detto, senti delle volte e dirò delle cose che i tifosi non vogliono sentire, però sono la verità. Ho sempre detto che sarò trasparente e sarò sempre trasparente, dirò sempre la verità. Come ho detto anche all'inizio, che i tifosi stiamo facendo delle cose che penso fa crescere in Bologna e i tifosi devono essere pazienze con noi. Però ancora non siamo arrivati a quello punto lì. Abbiamo ancora un anno a livello del piano che abbiamo fatto ma siamo troppo avanzati per parlare di quello adesso. Abbiamo giocatori, diriamo, che giocatori migliori che abbiamo adesso. Abbiamo sempre detto che vogliamo far crescere i giocatori che abbiamo e quest'anno abbiamo visto che i giocatori giovani che abbiamo portato hanno un grande futuro e lavoreremo su quello.